Presidente Bulgaroni, una breve inciso, una breve precisazione al di là di questa copertura che abbiamo già detto, grazie anche a tanti amici che vi hanno dato una mano. Adesso ci sono degli interventi importanti che devono essere fatti, Presidente? Sì, infatti, se non vado errato, ieri sera in Consiglio Comunale se ne è parlato di un stanziamento, se non sbaglio, di circa 500 mila euro. Da parte del Comune? Da parte del Comune di Comunale. 500 mila euro che sono dedicati alla ristrutturazione, nel senso di interventi di straordinaria manutenzione degli impianti, l'adduzione dell'acqua, eccetera, perché la piscina del Comunotto risale al 1973. Il padrone di casa è il Comune di Como, noi abbiamo vinto un bando, pertanto noi facciamo la gestione del sito, ma la straordinaria manutenzione è dedicata al Comune. In questa straordinaria manutenzione devono fare gli interventi importanti, mi dicevi anche dei tubi, tubazioni, perché sono tubazioni in ferro che sono interrate dal 1973 e quindi ogni tanto presentano qualche problema di perdita. E anche di perdita di acqua, mi dicevi Presidente. Perdita di acqua, eccetera. Quindi questo stanziamento, diciamo, straordinario del Comune è proprio per fare... E' dedicata, diciamo, come padrone di casa, il Comune ristruttura la sua casa, che poi nella casa ci siamo noi perché abbiamo vinto un bando, ma non c'entra nulla rispetto alla copertura. Alla struttura e alla copertura qua, esattamente. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie, grazie.